Vogliamo il lavoro! Vogliamo il lavoro! Vogliamo il lavoro! La Cassa Integrazione non è la risposta per il loro futuro, ma solo un pagliativo. I lavoratori del Carrefour, che ha chiuso i battenti dal fine febbraio, lo ribadiscono e confidano nell'impegno di tutte le parti per far ripartire in qualche modo l'ipermercato. Si sono così ritrovati davanti al Comune di Termoli per organizzare un presidio, perché, dicono, dietro a ogni dipendente c'è anche il reddito di una famiglia. Purtroppo a tutt'oggi è andato tutto come è andato, la chiusura c'è stata, però risposte da parte delle istituzioni zero, o perlomeno chiacchiere. Ora ci sarà la Cassa Integrazione, che cosa vi aspettate per il futuro? Il lavoro, perché è frustrante sentirsi, tra virgolette, un parassita sociale. Il presidio a oltranza degli ex dipendenti intervenuti insieme ai sindacati punta a tenere alta l'attenzione sulla vicenda, ma non mancano le proposte. Per quanto riguarda il supermercato ci dovrebbe essere l'inserimento di una nuova azienda, ma per quanto riguarda il centro abbiamo fatto già delle proposte che potrebbero essere una rotonda o addirittura l'inizio di una costruzione di un cinema. C'è un tavolo tecnico con degli attori che sono diversi, adesso è il Comune che deve avere la forza per convocarci, per convocare il Presidente della Regione, alla quale da parte nostra è già stato chiesto un incontro su questo tema, anche se chiaramente da pochi giorni si è insiedato, e fare il punto della situazione anche con le associazioni di categoria che hanno risposto, tipo la Confcommercio, tipo la Camera di Commercio, che hanno delle idee. Intanto il Vice Sindaco di Termoli, Enzo Ferrazzano, ha incontrato i lavoratori in cassa integrazione annunciando un tavolo tecnico tra tutte le parti in programma mercoledì 27 marzo.